Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi domenica 3 giugno, tanti auguri a tutti quanti voi per questo fine settimana che spero impiegate per fare sport e divertirvi. Di Maio, Salvini e Conte, i tre di oscuri del governo del cambiamento, primo giorno del governo del cambiamento, che cosa ci regalano oggi? Insomma, intanto Di Maio ci regala, secondo il titolo del Corriere della Sera, pensioni si cambia, in realtà non solo pensioni a guardare il sole 24 ore, cioè inizia a prendere in mano i dossier economici, purtroppo dico io, sui pensioni è quota 100, cioè sostanzialmente per andare in pensione bisogna arrivare a quota 100 tra contributi e anzianità, tutti contenti, tutti felici, chissà perché quei cattivoni fino ad oggi non volevano fare quota 100, forse erano proprio dei cattivi tecnocrati europei, probabilmente è così, come ci spiega bene di Di Maio e tutta la retorica, ma non solo di Di Maio, di tutti quanti noi giornalisti che abbiamo sempre spiegato che ci sono dei cattivoni che non ci volevano fare andare in pensione, quindi adesso andiamo tutti a pensione a quota 100, ricordatevi che sulle pensioni sono stati commessi le retoriche e le bugie più enormi del mondo, così come un po' di anni fa ci sostennero che si poteva andare in pensione a 14 anni e 9 mesi di anzianità per i maestri elementari che erano così stanchi della loro attività lavorativa, insomma probabilmente, anzi sicuramente la riforma a Fornero è stata fatta con i piedi, perché come tutte le cose fatte dai professori che non hanno l'idea di che cosa sia la vita reale, si commettono degli errori, ma l'idea che oggi con il numeretto 100 sono arrivati questi e ci hanno salvato le pensioni, ho qualche dubbio, aug Giorgio, così come qualche dubbio, anzi più di qualche dubbio, mentre sulle pensioni vediamo quello che faranno e ricordatevi che un pensionato in più non vuol dire un lavoratore in più, questa minchiata della sostituzione vecchi, giovani è una roba di quelle che veramente è una balla, cambiano i lavori, non si assumono le persone, si cambiano le competenze che si vogliono in aziende, le aziende muoiono e nascono alla velocità della luce, insomma non esiste più l'azienda Fordista di 50 anni fa, per cui se ne tolgo uno ne devo mettere un altro, non c'è più, vabbè, ma comunque, fatta questa premessa voglio andare sul punto vero, cioè Giobs Act, sapete cosa vuole cambiare quel genio di Di Maio? Che devo dire, in questo io non voglio fare battute, ma se avesse lavorato una volta in vita sua forse si sarebbe reso conto che cos'è la gig economy, anzi lui quando vedeva le bibite allo stadio San Paolo, come si chiama di Napoli? Probabilmente gli danno due lire, allora quello che voglio dire, l'idea di cambiare i contratti a termine, che è la prima cosa che vogliono fare questi signori, rendendoli più duri rispetto a quello che ha fatto il decreto Poletti, un comunista che ha vissuto nelle cooperative e che non mi sembra esattamente uno sfruttatore del popolo, ecco l'idea di renderli i contratti a termine sempre più difficili, mettendoci dentro la casuale che aveva tolto proprio il decreto Poletti, perché tu devi scrivere, ti faccio un contratto a termine per fare questo e quest'altro lo devi scrivere bene bene bene, questi deficienti non si rendono conto che cazzo vuol dire riempire di burocrazia, ci hanno raccontato meno burocrazia, meno cosa e mettiamo la casuale, la casuale per i lavori a tempo determinato, se così fosse, ed è quello che stanno dicendo il Sole 24 Ore di oggi, ma anche tutti gli altri giornali sulla prima mossa da fare lo sviluppo economico, complimenti, bravi, bravi, così cerchiamo il lavoro, devo dire che i giornali poi in realtà, mi viene da ridere, gli stessi giornali che criticano il Movimento 5 Stelle e che criticano, il mio non è un lavoro deficiente di un lino, no, perché tu non mi stai pagando, cretino, ora che mi stai guardando non mi stai pagando, va bene? Anzi, sai che dovresti fare? Vattene, 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 perché io ti sto regalando qualche cosa che tu non hai pagato, chiaro? Bene, questo era per un cretino di grillino, un troll c'è sempre in mezzo a noi, allora quello che sto cercando di spiegare molto banalmente è che il lavoro non si fa per decreto, se si facesse per decreto avremmo tutti quanti il 100% dell'occupazione, purtroppo non è così, purtroppo non è così, però i giornali che cosa fanno? I giornali aiutano, aiutano, sì sì sì, proprio un deficiente lì, perché aiutano i giornali? Perché poi dopo fanno degli articoli come oggi su Corriere della Sera che dicono la gig economy, i lavoretti, un milione di persone, allora voglio chiedere ai giornalisti del Corriere della Sera e a tutti i fenomeni che ci sono qua, è meglio un lavoretto o meglio stare a casa laureandosi in lettere e filosofie e sperando di avere un lavoro perché ne ho il diritto? Ecco il mondo si divide così, si divide tra quelli che pensano di studiare, magari si prendono il loro 18 politico, però io mi sono laureato, allora ho il diritto, sono lavorato in scienze politiche, sono dato in scienze delle comunicazioni, allora ho il diritto al lavoro e se non trovo il lavoro sono sfruttato, così questa è la logica di una certa gente, di un certo modo di pensare e con questa logica ci troviamo perfettamente nel demaismo, mi stupisco che Salvini e i suoi possano minimamente dare adito a una idea di questo tipo del lavoro. Salvini che invece l'altro, diciamo, l'altro gallo nel pollaio va per la sua strada, ciao Marco, buongiorno da Capoverde, mitico, e qual è, c'è ragione Carlo, lascia perdere gli stronzi, mi dice, sì devo lasciarli perdere, ho sbagliato perché mi fanno perdere soltanto tempo, allora qual è l'altra parte del governo? È quella parte che ci piace di più a noi, la parte più normale, la parte che dice delle cose verosimili, sull'immigrazione a differenza di quello che scrivono i giornaloni, a differenza Salvini fa quello che aveva detto, cerca di fare quello che aveva detto, si devono stringere i cordoni, non si può pensare che in questo paese ci siano 500.000 clandestini, non è una cosa difficile da arrivarci, mi sembra sacrosanto quello che ha pensato e detto Salvini, che Minniti però gli contesta in una pagina intera perché Minniti deve fare il suo, non togliere il primato che c'ha l'Italia nella, non so in che cosa, ma tutti sti primati che noi abbiamo in Italia, riconoscendo Minniti aver fatto bene il ministro degli interi, non mi sembra. Terzo capitolo della giornata, questo vice segretario della Lega Fontana che ha detto la seguente frase, credo che un bambino debba avere un papà e una mamma, apriti cielo, adesso io voglio dire, penso che uno se è gay è libero di esserlo, se vuole avere una storia, se vuole avere gli uni civili, se vuole avere l'eredità, se vuole avere fantastico, affari vostri, affari miei, chi se ne frega, un liberale non può contestare i propri e quegli altri, i gusti sessuali degli altri, sono affari vostri, ma quanto sono affari vostri quello di avere una vita sana, normale, di gay, di omosessuali, eterosessuali e quello, potrà essere normale che il ministro della famiglia dica che un bambino deve avere un papà e una mamma? Non lo so, io magari posso sembrare un cazzo di conservatore, ma io mi sento molto liberale nel pensare che un uomo possa dire che un bambino deve avere un papà e una mamma, non mi sembra una cosa incredibile, per cui tutti quanti si stanno oggi stracciando le vesti, Salvini lo ha ripreso, ha detto che non fa parte del contratto di programma, ha ragione, perché un politico deve stare attento a tenere insieme la sua maggioranza, ma non è che mi sembra una cosa incredibile, il tempo dice il family day, non c'è il nota giustamente Mantovano oggi sul fondo del tempo, non c'è il ministero delle pari opportunità, che è un'altra di quelle cose che mi fa godere come un riccio, come un riccio che non ci sia il ministero delle pari opportunità, che secondo me fu un'altra delle genielate inventate da Berlusconi, lo dico in maniera ironica, perché riuscì a piazzarci la carfagna, queste qua, al ministero delle pari opportunità, pari opportunità, pensa tu, un governo liberale che si investe il ministero delle pari opportunità, una roba da matti, e quindi un altro elemento positivo di questo governo, sono partito dicendo le cose che proprio non mi piacevano di questo governo, tutta la parte sul lavoro, sulle pensioni, ma questa parte qua, che non ci sia un governo delle pari opportunità, da brindare, fantastico, hanno regalato un sorriso contro l'ipocrisia delle stronzate politicamente corrette del passato, grandissimo un governo che non abbia le pari opportunità e neanche l'ambiente. L'altra cosa di giornata riguarda il Premier Conte, adesso non voglio sempre il giallo verde perché avete capito che a me tutte le cose sull'economia mi faranno schifo di questo governo, almeno da come... Ciao Angelo, saluti da Carlo addirittura, me lo fai tu i saluti di Carlo, va bene. L'altra cosa che io trovo incredibile è le prime dichiarazioni di Conte, devo dire che questo è anche un po' ridicolo questo Premier che nessuno sa che cosa sia, vabbè ma comunque sia. Questo Conte ieri alla giornata, al primo giorno di governo, cosa ha detto? Ha detto... ha detto... ovviamente Michela Marzano sul Family Day è scandalizzata se il Movimento 5 Stelle tradisce i diritti civili. Beh, insomma, Conte che cosa ha fatto ieri? Ha detto una cosa molto semplice, è sbagliato rappresentare il paese italiano come un paese di corrotti, va bene? Il paese italiano è un paese di corrotti, in cui c'è solo la corruzione. E Michele Brambilla oggi con un bellissimo... no ma che è una birra, è un caffè... con un bellissimo fondo sul giornale dice... ma scusate, ma voi non eravate quel popolo di viola, quel popolo del vaffanculo, quel popolo per cui l'Italia era tutta corrotta, per cui l'Italia era tutta da ladri, per cui c'era bisogno della ramazza. Adesso Conte la sua prima dichiarazione che fa pubblica dice che non dobbiamo disegnare l'Italia come un paese di corrotti. E certo che non è un paese di corrotti, io sono d'accordo con Conte, mi piace la dichiarazione di Conte, ma mi diverte molto l'analisi che ha fatto Brambilla in cui racconta come in realtà Conte è diventato presidente del Consiglio proprio per quel sentimento collettivo di indignazione che ha portato il Movimento 5 Stelle a vincere le elezioni dicendo siete tutti corrotti tranne noi ovviamente, cioè loro. Allora qua mi dicono del saluto col pugno chiuso di Fico. Devo dire la verità che sul giornale non ho trovato grandi storie su questa vicenda, mentre lo trovate sul tempo e sul libero. Bisogna capire se effettivamente non fosse un momento del pugno chiuso, cioè è uno scatto fotografico e l'avesse veramente fatto. Se un presidente della Camera si mette a fare il pugno chiuso il 2 giugno, beh insomma piuttosto ribrezzo a me fa. Ne parla Giovanni Sallusti, non Alessandro su Libero. Ricolfi dice non è un governo né di destra né di sinistra, è un governo che c'è alcune cose di destra e altre di sinistra, non sono convinto di quello che dice Ricolfi. In più Ricolfi dice perché lo definiscono un governo di destra perché destra è sinonimo di brutto, fascista, cioè sono sinonimi destra, brutto e fascista, sono sinonimi, perciò definiscono alcuni giornali Repubblica, ma non solo questo come un governo di destra. Non so come faccia il fatto che si definisce di sinistra. Ne ho parlato di Fico e poi altra cosa, vabbè Panza che dice sul Libero che Salvini si mangerà con un suo boccone di Maio, adesso lo dice Panza, mentre è molto interessante l'intervista che fa Luca Telesa alle Meloni, perché Giorgia Maloni, io non l'ho veramente capita, se esprime fiducia a questo governo o non fiducia su questo governo. Abbiamo capito che lei la esprime e Telesa gli fa una domanda, dice ma guarda che grazie a te questo governo si è fatto perché l'ingresso di Fratelli d'Italia nella maggioranza ha svoltato l'impasso in cui ci trovavamo e la Meloni dice sì lo so e poi gli chiede Telesa ma per quale motivo poi dopo non ci sei dentro? Hai accettato il veto che facevano il Movimento 5 Stelle e le tue confronti? E lei ha detto sì, cioè il Movimento 5 Stelle non la voleva la Meloni e quindi lei non c'è stata, cioè da una parte ha agevolato la nascita del governo e dall'altra sarà accettato il veto. In politica si può accettare tutto, vale tutto il contrario di tutto, ma non riesco a capire quale potrà mai essere il contributo ideologico di un partito del 4% che diventa fondamentale da un punto di vista simbolico nel fare il governo, ma viene trattato come una pezza da piedi, cioè non solo non gli danno i due ministeri che ha chiesto la Meloni anche se tutti lo negano per lei e per Crosetto, cioè i leader devono essere nel ministero quindi anch'io perché ci sono Salvini e Di Maio, ma in più oltre a non concederli ai ministeri non le permettono neanche di avere un ruolo nella maggioranza. Un po' per un elettore di Fratelli d'Italia forse questa contraddizione c'è, io insomma non la capisco, nonostante la bella intervista. E finite la destra e fatevene una ragione, speriamo che sia così, dice qualcuno. Poi Giorgia farà la differenza, dice Antonio, io non so come posso fare la differenza in questo governo, devo dire la verità. Cosa ne pensi di dichiarazione di Fontana? Adanè ne ho parlato e dai, non è che posso risponderti adesso qualche presidenza di commissione? Sì Giorgio potranno fare qualche presidenza di commissione, però il governo che farà e la maggioranza sarà un'altra. Io penso che ci sarà qualche presidenza di commissione, vuoi che Crosetto non sia presidente della commissione di Vesa, ma che ce fai? Tutti molto caldi su Giorgia, Giorgia ha fatto sempre la differenza. Direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela sul sito nicolaporro.it, le altre informazioni di giornata, critiche e non critiche con i nostri ospiti su questo governo che si è appena formato, di destra, di sinistra, di tutela della famiglia, dei diritti civili, boh, lo vedremo, chi vivrà vedrà, ciao!